Il processo Damasco II va. Costituite le parti civili, resta appesa alla richiesta di ricusazione contro il giudice Aielli. Dopo un avvio ostentato lo scorso 28 obber previa delle incompatibilità sollevate contro il presidente del collegio Pierfrancesco De Angelis subito accolte, ieri si è riscato un nuovo stallo. Eccezioni di incompatibilità sono state mosse anche nei confronti del nuovo presidente, il giudice Aielli, per aver ricoperto la funzione di GIP relativamente ad ordinanze riguardanti procedimento a carico di alcuni degli stessi imputati ora sotto processo. Il nuovo collegio ha respinto le eccezioni sostenendo in linea con quanto affermato poco prima dal pubblico ministero Maria Cristina Palaia in contrapposizione all'obiezione degli avvocati difensori che non vi è causa di incompatibilità nel conferimento di un incarico di un perito o un incidente probatorio. Immediata la reazione del collegio difensivo che ha subito chiesto la ricusazione del giudice sulla quale deciderà a breve la corte d'appello. Il processo Damasco II va avanti dunque con una spada di Damocle, l'istanza di ricusazione del giudice che, se accolta, potrebbe azzerare il lavoro finora svolto in aula. Un'area dai contorni forti, un processo a carico di 33 imputati, suddivisi in tre procedimenti, due dei quali aggravati dal vincolo associativo, tra i quali i fratelli Carmelo Venanzio Tripodo, ma anche Aldo Trani, che ieri in aula non è riuscito a contenere il suo dissenso nei confronti dell'inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Roma, che lo ha portato in carcere ora alla sbarra, lasciandosi andare ad un lungo sfogo. 33 imputati, dicevamo, i loro legali, un pubblico attento per la portata dei fatti contestati, note alle cronache come Casofondi, hanno determinato fin dalla scorsa udienza che il procedimento fosse netuto nell'aula della Corte d'Assise del Tribunale di Latina. L'udienza di ieri, ancorata al tecnicismo delle procedure, è stata aggiornata a venerdì 5 novembre. Il collegio scioglierà riserve sulle eccezioni relative alla composizione del fascicolo e alla correzione di un errore, relativo ad un capo di imputazione commesso su un atto di citazione. Per l'avvio del dibattimento, vero e proprio, sembra volerci ancora tempo.